Eccola, il triangolino arancione è la Golar Tundra, la nave rigassificatrice diretta al porto di Piombino. Questa è la sua posizione rilevata intorno alle 11, dopo aver avviaggiato per un tratto lungo la costa della Sardegna, ora punta dritta alle acque toscane, scortata dalla marina militare. L'attracco, in base alla velocità di crociere attuale, potrebbe slittare di qualche ora rispetto a quanto preventivato. Poco importa, il porto di Piombino è già blindato contro le contestazioni dei comitati che ancora si oppongono al rigassificatore a cui è entrata in funzione in programma intromaggio e che anche stamani hanno sfilato in corteo dalla stazione al porto, impugnando cartelli e rilanciando i loro slogan. Una battaglia che va avanti sostanzialmente da un anno. Nei primi giorni di marzo del 2022 si iniziò seriamente a parlare dell'ipotesi Piombino come luogo dove collocare una delle due nave in pianto di cui l'Italia necessitava, in base al piano nazionale del governo Draghi, per l'affrancamento dalla dipendenza energetica dalla Russia. Il quadro fu chiaro da subito. Meno di un mese, dopo i primi annunci, era già stato indicato nel porto il luogo dove collocare la nave, a differenza di quanto accade con l'altro rigassificatore in Toscana, quell'offshore, a largo della costa livornese. Proprio la posizione dell'impianto e i presunti rischi per la sicurezza e per le attività economiche nello scalo marittimo sono diventate presto il terreno di scontro tra il comune, oppositore al progetto, e la regione. Una battaglia politica che ha visto il sindaco di Piombino, Francesco Ferrari, esponente di Fratelli d'Italia, sperare in un cambio di programma dopo la vittoria di Giorgia Meloni alle politiche di settembre. Ma un ripensamento rispetto agli impegni presi con Snam non è mai arrivato. E nemmeno la giustizia ha dato ragione agli oppositori, con due pronunciamenti del TAR che per il momento non hanno fermato né l'arrivo della nave né i lavori a terra per collegare il rigassificatore alla rete nazionale. E così, tra qualche ora, dopo tante parole, si passerà ai fatti.